Sono stati oltre 800 i partecipanti al raduno regionale dei catechisti organizzato a Caltanissetta dall'Ufficio Regionale per la Catechesi della Conferenza Episcopale Siciliana. L'appuntamento è stato parte integrante del convegno di catechesi che si è svolto a Caltanissetta venerdì 21 e sabato 22 giugno. L'evento dal titolo Ascolto, Comunicazione e Linguaggi, Evangelizzare nel contesto siciliano ha visto nella prima giornata prima un momento di condivisione e di confronto con sacerdoti delle diverse diocesi dell'isola e poi di approfondimento e riflessione con le equip catechistiche delle diocesi siciliane. Sabato 22 il grande raduno con catechisti provenienti dalle 18 diocesi dell'isola riuniti per condividere esperienze e rinnovare il loro impegno nella missione di evangelizzazione. Durante il raduno, quanti si occupano di catechesi in Sicilia, hanno avuto l'opportunità di prendere parte a workshop tematici, conferenze e momenti di preghiera e riflessione. Gli interventi dei relatori, tra i quali spiccavano nomi di rilievo nel panorama nazionale, hanno offerto spunti preziosi per affrontare le sfide attuali della trasmissione della fede. Il dottor Andrea Monda, direttore dell'osservatore romano, Monsignor Valentino Bulgarelli, direttore dell'Ufficio Catechistico Nazionale della CEI e il prof Marco Tibaldi, formatore e direttore dell'Istituto Scienze Religiose di Bologna, hanno dibattuto su intelligenza artificiale e testimoni digitali tra contenuti e testimonianza. Alla manifestazione sono stati presenti anche Monsignor Antonino Raspanti, vescovo di Acireale nonché presidente della Cesi, Monsignor Mario Russotto, vescovo di Caltanissetta e Monsignor Rosario Gisana, vescovo di Piazza Almerina e delegato per la Catechesi, il quale si è rivolto ai catechisti, sottolineando l'importanza che hanno come testimoni e annunciatori del Vangelo nelle loro comunità. Al termine della giornata di festa, Don Carmelo Sciuto, della Diocesi di Acireale e direttore dell'Ufficio Catechistico Regionale, ha rivolto un sentito ringraziamento a tutti coloro che hanno contribuito alla riuscita di quest'evento ai relatori e ai catechisti partecipanti, sottolineando passione e dedizione.